Bene, adesso siamo al posto io, facciamo ecco qua, Michele viene anche tu. Io penso prima ci vediamo il video e dopo diciamo due parole perché forse così ci nasce più dal cuore questo momento. Prego il video. Grazie a tutti. 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 Ecco loro dal 1919 hanno cominciato a credere che il futuro è dei bambini. Sono il braccio sul campo, il braccio lungo dovrebbero essere del nostro cuore. Noi cantiamo per accogliere qualche cosina da mandare a loro, facciamo cantare i nostri bambini per accogliere qualche cosona spero di mandare a loro. Noi siamo fortunati, noi siamo fortunati, i nostri bambini cantano le canzoni d'amore, i loro bambini urlano gride di terrore, di dolore. E allora noi oggi tocca fare qualcosa. Perché i bambini e i bambini e i bambini, perché i bambini e i bambini, sono del domani, del futuro, sono i loro. E quindi poi io passerò adesso con questa cassetta enorme, perché io sono speranzoso, pieno di speranza che si possa riempire, ma quello che si può donare, quello che possiamo fare, lo faremo. Chi non può perché il Signore sa e legge nei cuori, non ha importanza. Io dico, dite una preghiera, forse arriverà anche quella, non costa niente.